Ciao a tutti, sono Giovanni, anche conosciuto come CryptoJoe101 su Twitter e finalmente ci siamo ritrovati su YouTube. Dopo qualche mese di assenza ho finalmente trovato il tempo per ricominciare a produrre e a creare un po' di content su Cardano. Oggi parleremo di AdaHandle, che è un sistema che esiste già su altre blockchain tipo Ethereum dove invece di scrivere, utilizzare l'indirizzo del wallet completo possiamo utilizzare un nome simbolico come il nostro nome, come il nome del nostro personaggio preferito e utilizzare questo handle per effettuare pagamenti o per ricevere Cryptocurrencies, in questo caso Cardano. Prima di cominciare però vi invito a fare like e a sottoscrivere al canale se vi piace il contenuto che sto creando ma soprattutto se siete possessori di Cardano o Ada io vi ricordo che sono anche lo Stack Pool Operator della Cardano Stack Pool Easy One. Questa Stack Pool è stata creata, l'ho creata più di un anno e mezzo fa ho correntemente 15 milioni, quasi 16 milioni di Ada delegati e ho prodotto nel tempo, in questo anno e mezzo, ben 331 blocchi. Io sono un ingegnere informatico, ho seguito Cardano dai primissimi tempi e so benissimo come gestire una Stack Pool, quindi vi invito a delegare da me e di unirvi anche al mio gruppo Telegram di cui metterò un link sotto nei commenti per rimanere sempre aggiornati sui contenuti di Cardano e su tutto quello che succede sulla blockchain. Un altro piccolissimo annuncio volevo fare prima di continuare è che se per caso, tra i miei viewers, ci sono anche Luca The Crypto Gateway e il mitico Tiziano Tritico di contattarmi, rispondete al Twitter, mandatemi un DM perché ho comprato per voi i Ada Handle io lo so Luca tu che sei un appassionatissimo di Cardano però se vuoi, crea un wallet e ti invio il tuo Handle stessa cosa per Tiziano, io so che tu copri un pochettino Cardano e ho preso l'Handle anche per te se vuoi, contattami e te lo invio. Ok, bando alle ciance e continuiamo col progetto. Il progetto è adahandle.com, questo è il sito come ho anticipato precedentemente funziona praticamente che voi comprate un Handle adesso vi spiego come e che cos'è di fatto un Handle e poi potete utilizzare questo nome simbolico tra un minuto ne creeremo uno assieme e cosa si può fare con questa cosa qua? Innanzitutto la maggior parte dei wallet sono integrati o meglio quelli più grandi come Nami Wallet o CC Vault, se siete già pratici di Cardano potete utilizzare un Ada Handle invece di scrivere l'indirizzo lungo lungo e come funziona è che il wallet va sulla blockchain vede chi è il possessore di questo NFT perché un Ada Handle non è nient'altro che un NFT e traduce il nome nell'indirizzo base del wallet in questa maniera si crea questo link tra le due cose e quando qualcuno vuole inviarvi il denaro voi semplicemente gli passate il vostro Handle e praticamente il wallet fa il resto i wallet non sono l'unica cosa che sono integrati ci sono anche Maladex che è un Dex Nami che è un wallet Sunday Swap che è un Dex anche questo poi ci sono World Mobile e altri progetti come Gero Wallet, NFT Maker la lista è molto molto lunga si si volte che è il mio wallet preferito magari un giorno faccio anche un video su questo e quindi questo vi permette di poter utilizzare il vostro Handle invece del vostro indirizzo della vostra address che è una stringa alfanumerica di non so quanti caratteri forse addirittura una cinquantina ora che sappiamo cos'è un Ada Handle dobbiamo imparare come comprarli dove sono e quanto costano innanzitutto dobbiamo recarci sul sito adahandle.com e poi cliccare su Mint Handle ci verrà mostrata questa schermata che è praticamente un sistema automatico per la gestione delle code poiché questi sono i primi giorni in cui Andahandle è andato live praticamente è andato live ieri alle 3 del pomeriggio ora è italiana loro utilizzano un gestione di code gestita tramite email address qui andrò a inserire l'email della mia stake pool che andrò a utilizzare per la richiesta per sottomettere la richiesta dei miei handle poi bisogna cliccare sul bottone per dimostrare di non essere un robot e tra qualche minuto dovrebbe arrivarmi una email l'email è appena arrivata e possiamo adesso cliccare sul Get Access Now ovviamente andremo su una nuova pagina web scusatemi e dopo aver cliccato i bottoncini per le spuntine grazie alle quali accettiamo i termini d'uso andremo sul sul Minting Portal ora la prima cosa che noterete è che qui innanzitutto c'è la preview dell'NFT e qui c'è il nome simbolico che possiamo utilizzare noi possiamo mettere quello che ci pare e il sistema automaticamente ci dirà come sembrerà l'NFT quanto costa e poi che tipo di NFT è allora i tipi di NFT a prescindere dal tipo hanno tutti quanti la stessa funzione però il termine qui ci dice semplicemente quanto rari sono se per esempio noi utilizziamo una una stringa molto corta ci dirà per esempio che è un raro e questo non è disponibile perché è stato riservato o è stato già venduto per esempio gli Steak Pool Operator come Easy One questi nomi qua sono stati riservati non sono comprabili perché non possono essere acquistati perché sono ovviamente sono stati conservati per gli Steak Pool Operator la cui vendita è ancora chiusa vabbè comunque andiamo parliamo delle cose importanti io non so esattamente cosa comprare però ho un'idea vediamo se è libero I Love Pizza è free quindi quello che farò è che adesso con voi in real time andrò a comprare questo NFT e poi lo andrò a regalare uno dei miei follower e per prenderlo è molto semplice questo video verrà pubblicato su Twitter venitemi a trovare su Twitter e di nuovo metterò il mio coordinato è qua da qualche parte CryptoJoe101 oppure GiovanniCripto entrambi perché io ho sia un profilo italiano che un profilo in inglese troverete questo questo tweet in entrambi i profile fate un bel like fate un bel retweet e mettete mettete un commento pescherò uno di voi a random e gli invierò a gratis a gratis l'NFT così da quel punto in poi voi potete dire che il vostro indirizzo è I Love Pizza clicchiamo su Reserve Handle e praticamente adesso il nostro Handle è pronto per essere acquistato per acquistarlo è molto semplice questa è una sorta di Vending Machine prendiamo l'indirizzo e dobbiamo inviarci 10 ADA qui ho il mio wallet CC Vault dovresti riuscirlo a vedere sì perfetto con ricchissimi 20 ADA mi raccomando non mi rubate questo wallet e qui andremo a inviare a questo indirizzo qui 10 dei 20 ADA chissà se mi ricordo la password yes mi ricordo la password e adesso la transazione è pending attendiamo qualche minuto che la transazione viene effettivamente effettuata e poi nell'arco dei prossimi 3 o 4 minuti questo Handle dovrebbe arrivare nel mio wallet eccoci qua il token è finalmente arrivato questa parte del video in realtà viene girata quasi 3 ore dopo dopo aver contattato a Handle in realtà c'è stato un piccolo problema nel loro server e quindi i token sono stati generati con un po' di ritardi in ogni caso qui potete vedere come in realtà I love pizza l'indel si è arrivato che è adesso disponibile scusatemi fatemi tornare all'istate di transazioni eccolo qui è arrivato sono le 2.55 io l'ho richiesto praticamente a mezzogiorno comunque è adesso arrivato e noi possiamo già utilizzarlo I love pizza io posso simulare l'invio di una transazione lo mando dal mio wallet al mio wallet io posso scrivere semplicemente dollaro I love pizza e praticamente viene sostituito come potete vedere automaticamente con il mio wallet che non è nient'altro per le persone un po' più tecniche potete vedere che se vado nel mio account e faccio utx list qui è esattamente l'indirizzo dove il mio I love pizza è in questo momento quindi di nuovo se io prendo I love pizza e faccio send metto dollaro prima e poi send faccio I love pizza e poi dico che voglio mandare 2 ADA e faccio next metto la spending password io adesso dovrei vedere tra un secondo che nella lista delle transazioni ci dovrebbero essere 2 ADA che escono e 2 ADA che entrano finalmente le transazioni sono state processate dalla blockchain e potete vedere come qui inizialmente ci sia un invio di 2 ADA intra wallet però questo esempio è poco chiaro e quindi in realtà ne ho fatto anche un altro dove ho utilizzato un altro wallet e ho inviato 2 ADA a I love pizza quindi come potete vedere la transazione è stata effettuata con successo un'altra cosa molto fica degli ADA handle è che se voi per esempio fate uso di di PoolPM e qui per esempio ci sono un sacco di wallet delegati e vado nel mio wallet che finisce con W45 potete vedere che io per esempio ho comprato l'ADA handle che si chiama CryptoJow11 potete vedere che il mio wallet viene visualizzato su PoolPM con l'ADA handle CryptoJow11 ovviamente io ho un sacco di spazzatura qua dentro tanti NFT e qui ho anche diversi altri ADA handles ricordo se c'è Luca CryptoGateway oppure Tiziano Tritico di contattarmi con un DM sempre su Twitter qua sotto perché sarò molto più felice di regalarvi i vostri handle li ho riservati perché c'è un sacco di gente che li compra e li rivende a un prezzo molto più elevato io ho pensato di fare una cosa carina a riservarvi gli handles comprarveli e regalarveli perché insomma fa figo avere l'ADA handle specialmente a te Luca che io lo so a te Cardano non è che proprio ti sta simpaticissimo però almeno può utilizzare questa roba qui che è fichissima e un'altra cosa che volevo dire è che per chi è uno smanettone con i Dexis se voi per esempio utilizzate Sunday Swap potete utilizzare e sincronizzare il vostro wallet e il il nome I Love Pizza come potete vedere compare qui in alto a destra quindi voi sincronizzate il wallet sincronizzate il wallet dove avete il vostro ADA handle e potete vedere esattamente il nome anche qui per il momento queste sono i due principali i due principali modi per utilizzare ADA handle io so che il team sta lavorando anche ad altre cose come la login però sono cose che stanno ancora un po' in alto mare quindi non sono pronte per l'utilizzo vi ricordo che il handle I Love Pizza verrà messo verrà fatto un'estrazione verrà fatto un giveaway andate su Twitter trovate il mio account nei prossimi 5-6 giorni ci sarà un'estrazione dove regalerò questo handle linkatemi rispondetemi al tweet con il vostro handle per la possibilità alle prime 10 persone regalerò un po' di culo token il culo token un token che ho creato l'inverno scorso o la primavera scorsa penso la primavera scorsa è un meme coin se vi va rispondete al tweet venite a trovare su Twitter rispondete mettete il vostro ada handle e vi invierò un po' di culo ora quanto costa quanto costano per la precisione gli ada handle se andiamo nelle frequently asked question e cerchiamo per cost qui c'è la bella domanda how much does a handle cost? quanto costa un handle? in realtà dipende dalla lunghezza ci sono i leggendari che sono solo un carattere e queste vengono fatte tramite asta in realtà non ho dettagli di quando venga fatta questa asta ma penso che verrà fatta più in là nel tempo poi ci sono gli ultra rari che sono solamente due caratteri questi sono già attualmente comprabili al modicissimo prezzo di 815 ada i rari sono 3 caratteri 265 ada poi tra i 4 e i 7 abbiamo i common che sono 60 ada quindi abbastanza cari però insomma li compri solo una volta e poi funzionano per sempre e poi ci sono i basic che sono dagli 8 ai 15 caratteri e anche qui il prezzo in realtà è molto molto modico 10 ada sono secondo me perfetti insomma che sono tipicamente il costo di un nft detto questo non ricordo non penso che ci sia tanto altro da dire vi ricordo di vi ricordo di fare ovviamente like and subscribe di rimanere sincronizzati e di seguirmi su youtube per rimanere aggiornati su sui miei contenuti di cardano venitemi a trovare su telegram vedete nelle descrizioni del messaggio ci sono i miei canali telegram sia in inglese che in italiano e ovviamente voi siete italiani che cercherete quelli in italiano e che altro vi volevo dire e niente vi ricordo che ancora una volta sono lo stack pool operator della cardano stack pool easy one è stato un piacere finalmente ricreare un po' di content per voi e ci vediamo tra qualche giorno ciao ciao